Davide Pagnini, cantautore, musicista e ora anche scrittore. Domenica, nella location delle Limonaie di Muraglia, è stata presentata la tua prima fatica letteraria. Di cosa si tratta e qual è stata la molla scatenante che ti ha portato a passare dalla musica alla scrittura? Allora, io sono molto appassionato di scrittura in generale. Unendo la scrittura alla musica, perché io ho studiato musica per tutta la vita, dal conservatorio poi via via verso la musica pop cantautorale, ho iniziato appunto nella vita da giovane a scrivere canzoni, però non ho mai abbandonato la scrittura narrativa. E ho scritto racconti, poesie, un po' di cose che poi mi hanno portato a credere di poter scrivere un romanzo. E quindi poi qualche anno fa mi ci sono messo, ho scritto il primo capitolo, ci ho creduto, qualcuno ha intravisto un potenziale appunto come romanziere. E quindi poi ho continuato capitolo dopo capitolo, alla fine, dopo un annetto circa di lavoro, poi è uscito il romanzo, che è questo. Quindi adesso posso definirmi anche, diciamo, uno scrittore. Evitando di spoilerare troppi contenuti, una piccola sinossi di quello che si trova in questa pubblicazione. Guarda, questa storia è divisa in due parti. Ci sono due linee narrative che sembrano apparentemente molto, molto distanti. Anzi, sono molto distanti. Però poi, forse il destino, forse il caso, infatti il titolo poi è Il diario del destino, perché appunto ho cercato di dare una chiave di lettura al perché certe storie che sembrano veramente agli opposti, poi qualche volta si attraggono e si fondono in qualcosa che poi può diventare un'unica storia. Quindi la frase, quindi il manifesto è due vite da vivere, un destino da compiere. Dal contenuto alla copertina nella quale c'è questo richiamo all'Africa che parte integrante del romanzo. Sì, l'Africa è molto importante e non è il contesto dove si svolgono le azioni, ma è proprio un personaggio. Quindi io, in una delle due linee narrative, descrivo l'Africa proprio come personaggio fondamentale di questa storia. Dove possiamo trovare Il diario del destino? Allora, sicuramente in tutte le librerie si può ordinare, si può ordinare anche su internet, nelle varie piattaforme IBS, Mondadori, Feltrinelli, Amazon, quindi diciamo dappertutto. E poi alle mie presentazioni cercheremo di organizzarne il più possibile in giro per l'Italia.